I temi della Smart Manufacturing sono sicuramente al centro di questa giornata e sono uno dei temi strategici. Che cosa deve emergere? Quali sono le sfide che vanno affrontate? Le sfide che vanno affrontate sono diverse. Diciamo che questa giornata è un po' particolare per una volta che si affronta il tema del software industriale, che in questi anni è stato probabilmente non sempre al centro. Sicuramente il software gioca un ruolo molto importante, è una sfida sul quale penso che parecchie case produttici si stanno sfidando. Dall'altra parte c'è un'utenza che ha bisogno di capire e di sapere utilizzare e di essere informata su tutti questi strumenti. Per cui un'iniziativa così questa penso che sia molto importante per riuscire a fare chiarezza o perlomeno dare quell'informazione, quella conoscenza che penso soprattutto gli end user necessitano in questo momento. Nel corso della sessione che si dedica a questo emergeranno anche le novità, quello che è un po' lo stato dell'arte. L'Italia a che punto è? Spero che emerga sicuramente qualcosa. L'Italia, leggevo proprio stamattina un articolo, è molto interessata e da un'intervista che è emersa proprio fatta dal collega Canna, proprio si vede che l'operatore e a partire dall'operaio alle persone più specializzate hanno voglia di conoscere e di capire. Quindi la voglia c'è, si spera che anche in questa giornata ci sia qualcosa di nuovo e soprattutto di molto chiaro per chi poi deve utilizzare questi strumenti. Quale potrebbe essere lo strumento che può in un certo senso dare una svolta? Ma devo dire sicuramente quello che noi vediamo, chi lavora nel settore, è il fatto che si riesca a standardizzare. Gli strumenti sono tanti, uno dei grossi problemi è ancora quello di parlare tutti la stessa lingua dei veri strumenti, diciamo plug and play, sia dal punto di vista software che hardware. Questa sicuramente sarà una strada molto lunga perché naturalmente ci sono interessi di diversi player del settore ma sicuramente non si potrà fare a meno in un mondo in cui la connessione orizzontale, verticale diventa fondamentale e riuscire ad avere degli standard in cui tutti i sistemi utilizzati possono parlare la stessa lingua, un po' come è avvenuto già da anni nel mondo della comunicazione dove ormai si è deciso che l'inglese è la lingua mondiale di comunicazione. La stessa cosa penso dovrà avvenire nel campo dell'industria.